Il totale aumenta a 795 decessi nelle Marche dall'inizio dell'epidemia. Oggi si registrano 11 vittime, 7 donne e 4 uomini. Il più giovane aveva 71 anni, mentre il più anziano 89, 7 extra regione. Ancora in calo i ricoveri per coronavirus nelle Marche, da 952 a 933. Quelli in terapia intensiva sono scesi sotto 100. Le persone in semi-intensiva diminuiti da 214 a 205. In altri reparti non intensivi da 405 a 393. Crescono i dimessi e guariti da 1694 a 1726. E' quanto risulta dai dati del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie delle ultime 24 ore. Il numero dei contagi nella regione ha raggiunto quota 5.668. In crescita il numero di persone in isolamento domiciliare da 2.172 a 2.224. Nelle strutture sanitarie in aumento i degenti in area post-critica. E dunque coloro che stanno per sconfiggere il virus, passato in un giorno da 214 a 241. Altro dato in costante crescita il numero di operatori in isolamento domiciliare. Da 1.208 a 1.247, mentre il totale delle persone isolate in casa per contatti con positivi è di 7.882, 3.507 con sintomi. Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 la quarantena ha interessato in vario modo complessivamente 23.968 persone. I casi in provincia di Pesero-Urbino contano 2.277 positivi. Segue Ancona con 1.686, Macerata 895, Fermo 379, Ascoli Piceno 268, 163 extra regione.